Ognuno di noi è un eletto di Dio, porta una sua promessa e fa alleanze col Signore, come Abramo e il popolo ebraico. E questi sono doni di Dio irrevocabili, anche se disobbediamo, perché c'è la misericordia e la fedeltà del Signore. Lo ha ricordato Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino celebrata a casa Santa Marta, analizzando le parole di Paolo nel brano della lettera ai Romani inserito nella liturgia. Alla fine l'Apostolo si inginocchia in adorazione davanti al mistero della disobbedienza e della misericordia di Dio che ci fa liberi. Penso che può farsi bene a tutti noi pensare oggi alla nostra elezione, alle promesse che il Signore ci ha fatto e come vivo io l'alleanza col Signore e come mi lascio, permettetemi la parola, misericordiare dal Signore davanti ai miei peccati, alle mie disobbedienze. e alla fine se io sono capace, come Paolo, di lodare Dio per questo che ha dato a me, a ognuno di noi, lodare e fare quell'atto di adorazione. Ma non dimenticare mai, i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Lui è il fedele.